Attento, circa dieci passi saranno sopra di noi. Allora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ondici. Allora, uno, due, tre. Andate lì, siamo sotto. Dobbiamo andare a Tissi, fretta. A Tissi? A Tissi sono venti chilometri. Io faccio servizio soltanto in città. I soldi li abbiamo, non si preoccupi, andiamo, andiamo. Sto andando, sto andando. Ma perché va così pieno?